Buonasera a tutti, buonasera. Eccoci alla, non lo so, alla quinta, la sesta serata di Onda Vitale, dove parleremo di prebiotici e probiotici. Io e Carlo abbiamo deciso, abbiamo come al solito disattivato l'audio, informazioni di servizio, poi se avete delle domande ce le fate via chat. Questa è una delle, la sesta, mi sembra, la quinta o la sesta serata che facciamo il martedì sera, 30 minuti per il benessere, dove diamo delle informazioni riguardo agli integratori maggiormente utili da prendere in questo periodo, proprio perché, come diciamo sempre, il periodo che va da settembre più o meno a marzo è il periodo un pochino più pesante per il nostro organismo, alla nostra latitudine, dal punto di vista fisiologico. Quindi le poche ore di sonno, il freddo, cioè le poche ore di sonno, le poche ore di luce, il freddo portano generalmente a una maggiore facilità di ammalarsi, chiaramente insieme ad altri fattori. Quindi è molto importante lavorare sempre su un sano stile di vita. Vi ricordiamo, per chi è nuovo, che io, sono Melissa e Carlo, siamo due naturopati, ci occupiamo di benessere. Quindi rispetto alla medicina allopatica, il naturopata pensa che l'organismo umano debba essere considerato a 360 gradi. Quindi non solo una soppressione del sintomo, come normalmente fa la medicina allopatica, ma andare a fondo o comunque andare all'origine del sintomo. Sappiamo che il sintomo è solo l'ultima manifestazione di un disturbo psichico nato molto più a monte a livello di corpi sottili. Quindi sopprimere il sintomo non risolve praticamente il problema, ma lo sposta da un'altra parte eventualmente. Quindi bisogna andare a valutare emozioni della persona, il momento che sta vivendo, il tipo di vita che sta conducendo, per capire dove si è creato lo squilibrio e cercare, insieme alla persona, ovviamente che è parte attiva in questa cosa, di riportarla allo stato di equilibrio. I naturopati prendono come base alcuni fondamenti, cioè un'alimentazione sana, una sana attività, che può essere anche un'attività camminare semplicemente, non necessariamente un'attività agonistica. Anzi, diciamo che la cosa migliore è un'attività blanda ma costante, quindi anche una camminata di 40 minuti al giorno va benissimo, possibilmente in mezzo alla natura. Quindi un contenimento dello stress, non azzeramento, chiaramente, perché un minimo di stress è benefico per l'essere umano, ma riuscire a mantenere un livello tale per cui il nostro corpo non arriva a manifestare tutta una serie di sintomi da troppo sovraccarico. Poi lì diventa più difficile tornare in equilibrio e stare bene. Quindi tutta una serie, il naturopata mette in atto tutta una serie di prevenzione, la cosiddetta prevenzione primaria, che significa appunto sano stile di vita per poter stare bene tutto l'anno, poi chiaramente. Poiché in inverno, come dicevamo, è un pochino più difficile mantenere questo equilibrio per tutta una serie di motivazioni che abbiamo detto, abbiamo deciso di dedicare alcune serate all'utilizzo di alcuni integratori che sono particolarmente indicati. Come abbiamo sempre detto anche nelle altre serate, chiaramente il naturopata di natura, proprio perché si chiama naturopata, dovrebbe ricorrere solo all'atura con alimentazione e con altre sostanze naturali, rimedi fitoterapici, eccetera, e non ad integratori. Purtroppo però sappiamo che negli ultimi 50-60 anni l'alimentazione si è impoverita talmente, sia per quanto riguarda i terreni, sia per quanto riguarda l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo, che chiaramente non riusciamo più a sintetizzare dal cibo che mangiamo quelle che sono i maggiori minerali. Quindi una volta il magnesio, il ferro, tutti i minerali, il potassio, si prendevano dal terreno, li assumevamo dal terreno. E guarda caso anche i probiotici e prebiotici di cui parliamo stasera. Le popolazioni primitive, non a caso, hanno un intestino molto più ricco, un microbiota molto più ricco di probiotici e prebiotici che prendono dalle terre incontaminate. Ovviamente le terre incontaminate, noi qui alle nostre latitudini, sono veramente rare, per cui prendiamo frutta e verdura coltivata su terreni ormai completamente impoveriti e siamo costretti a ricorrere sia per quanto riguarda vitamina C, vitamina D, magnesio, eccetera, sia per quanto riguarda probiotici e prebiotici a un'integrazione, diciamo, acquistandoli in farmacia o in erboristeria. perché il terreno non è più in grado di darci questo supporto preziosissimo. È naturale che non saranno mai come quelli derivanti direttamente dal terreno, anche perché quelli derivanti dal terreno arrivano direttamente nell'intestino senza essere demoliti, diciamo, dai succhi gastrici dello stomaco e quindi hanno un'azione sia immediata ma anche durevole nel tempo. Mentre generalmente probiotici e prebiotici, quando noi li prendiamo in farmacia, nel momento in cui smettiamo di prenderli, nel giro di poco torniamo alla nostra situazione precedente. Invece quelli che provengono dal terreno hanno una durata all'interno del nostro intestino, continuano a replicarsi per più tempo. Ecco, quindi vedete sempre la cosa migliore è il bene naturale dato dalla natura e dalla terra. Purtroppo però, ecco, insomma, dove viviamo noi non possiamo più pensare di avere tutto incontaminato, ma dobbiamo ricorrere a delle integrazioni. Iniziamo subito a entrare nel vivo. Stasera appunto parliamo di probiotici e prebiotici, parlando sostanzialmente della differenza tra probiotici e prebiotici. I probiotici sono dei batteri buoni che sono microrganismi in grado di esercitare funzioni utili per l'organismo se ingeriti in dosi corrette ed adeguate. Mentre i prebiotici, di cui parlerà poi Carlo più approfonditamente, sono praticamente degli alimenti. Sono degli alimenti che facilitano l'attività dei probiotici. Infatti spesso si dice, quando si assumono probiotici, di assumere in contemporanea anche prebiotici perché aiutano il probiotico nella sua attività. Poi vedremo che i prebiotici sono contenuti in alcuni alimenti, quali aglio, cipolla, porri, piuttosto che carciofi, piuttosto che topinambur, che è il carciofo cosiddetto di Gerusalemme. E poi comunque ve li specificherà meglio Carlo. Era solo per dirvi che appunto i prebiotici sono degli alimenti che facilitano l'attività dei probiotici. Non lo sappiamo noi solo adesso, ma da tempo già Ippocrate lo diceva, che la salute deriva dall'intestino. In effetti negli ultimi anni sono stati approfonditi tantissimi studi di ricercatori sul microbiota intestinale e si è visto che praticamente tutte le malattie, ma tutte senza esclusione anche quelle neurodegenerative, quali per esempio l'Alzheimer, il Parkinson e anche molte malattie autoimmuni, le tiroidite eccetera, derivano fondamentalmente da un intestino non a posto. Sappiamo infatti che circa il 75% del nostro sistema immunitario guarda caso dove risiede nell'intestino. Quindi è importantissimo mantenere il nostro intestino nelle migliori condizioni possibili per far sì che la nostra salute sia migliore. Lo stesso Stefano Manera lo scorso anno, durante il periodo del diciamo il clou di questa epidemia di Covid, aveva detto, essendo un medico diciamo più completo, aveva detto che le persone che si erano malate di Covid e avevano avuto delle conseguenze più pesanti erano coloro che avevano sia carenza di vitamina D molto spesso, ma anche un intestino molto infiammato. Questo per dirvi, non per ricordarvi sempre alla stessa tematica, ma proprio per dire che è molto importante mantenere il nostro intestino in forma perché è proprio la base fondamentale del nostro benessere. Quali sono le caratteristiche dei probiotici? I probiotici devono necessariamente rispettare alcuni criteri delle linee guida dell'OMS, quindi devono essere tollerabili, ovviamente tollerabili e assimilabili dall'organismo umano, devono sopravvivere nel tratto digerente e poi devono essere, devono portare a un riequilibrio della flora batterica intestinale attraverso la quale poi attivano il sistema immunitario. La loro presenza è essenziale, è essenziale veramente nelle persone con un sistema immunitario delicato perché aiutano le funzioni digestive e aiutano soprattutto a risolvere le infiammazioni intestinali. Infatti si è visto che i probiotici hanno una funzione importantissima e un effetto benefico in caso di sindrome dell'intestino irritabile, nei casi di problemi alla pelle e anche nei casi di malattie quali la retupolite ulcerosa, per esempio. Ovviamente anche in questo caso una cosa importante che specificeremo anche dopo è che non bisogna prendere probiotici qualsiasi, cioè che per ogni disturbo, per ogni tipo di disturbo c'è un probiotico dedicato perché alcune volte noi prendiamo probiotici in farmacia, diciamo prendiamo quelli che ci vendono, non risolviamo più di tanto perché in realtà magari quel probiotico era più indicato per, che so, un problema digestivo piuttosto che un problema a livello vaginale per le donne, piuttosto a livello di apparato digerente. Quindi buttiamo i soldi e non risolviamo quello che è il nostro problema. Quindi anche quando si tratta di probiotici è importante prendere quelli dedicati proprio al tipo di disturbo che abbiamo in quel momento. Quindi ogni disturbo deve essere integrato con il tipo di probiotico più adatto. Dove possiamo reperirli in natura? Abbiamo già detto, no non abbiamo detto, che i probiotici si trovano in moltissimi alimenti fermentati, come lo yogurt, il miso, il tempeh, il kefir e i krauti, di cui vi parlerà meglio poi Carlo. Purtroppo noi con la nostra cucina mediterranea non siamo molto soliti usare questi alimenti o li usiamo molto molto poco. Chiaramente parliamo dello yogurt, non parliamo dello yogurt alla frutta che compriamo al supermercato. Poi vi dico, vedo le domande sotto, poi vi dico i probiotici per ogni tipo di disturbo, diciamo a grandi linee, quelli che sono più adatti per gonfiore, piuttosto che problemi gastrointestinali, candida, eccetera. Quindi stavo dicendo, purtroppo le nostre abitudini di dieta mediterranea fanno sì che questi alimenti rientrino poco nella nostra tradizione. Bisognerebbe invece un po' forzarsi a mangiarli o comunque a consumarli perché veramente per l'intestino sono una panacea. Stavo dicendo, chiaramente non sto parlando dello yogurt alla frutta che si compra al supermercato, ma purtroppo neanche dello yogurt bianco, perché per quanto non faccia così male, diciamo, però sta troppo conservato negli scaffali dei supermercati. Quindi quei poveri fermenti che ci sono muoiono nel corso del tempo, per cui si intende lo yogurt quello generalmente che si fa in casa. Quando è corretto assumere probiotici? Allora, i probiotici vanno assunti, vabbè, innanzitutto quando si hanno delle problematiche, quando per esempio ci si ammala spesso, quando si contraggono spesso raffreddori, quando si ha spesso per esempio l'herpes, quando si fa fatica a digerire, quando non ci si sente bene a livello proprio, ci si sente gonfi, oppure si soffre di stitichezza, al contrario si soffre di diarrea. Allora, lasciamo perdere l'episodio singolo che può capitare, ma quando si tendono ad avere questi disturbi ripetutamente nel tempo. Allora lì significa che c'è qualcosa che non funziona e bisogna andare, la prima cosa da cercare di sistemare è proprio l'intestino. Quando è invece il miglior momento per assumere i probiotici? È dopo cena. Ecco, qui molti, io inclusa tempo fa, facevo questo errore, quando prendevo i probiotici li prendevo la mattina, assolutamente sbagliato, assolutamente sbagliato perché la mattina il nostro pH gastrico è acido e quindi la cosa importante è che il probiotico giunga fino all'apparato intestinale integro, di modo che cominci a riprodursi in maniera benefica per il nostro intestino. Se viene distrutto dall'acidità dei suti gastrici, chiaramente capite bene che non serve a niente, non arriva proprio nell'intestino e non espleta la sua, quella che è la sua funzione principale. Invece dopo cena, accompagnato dai cibi e possibilmente anche sarebbe opportuno accompagnarli con un cibo, un olio, quindi un cibo grasso e benefico o l'avocado che è anche quello un grasso molto benefico. In questo modo i probiotici giungono molto probabilmente nel nostro intestino integri, anche perché la sera con il pasto della sera la nostra acidità gastrica è più bassa, siamo meno acidi diciamo, per cui è più facile che il probiotico giunga a destinazione e faccia la sua funzione. Quindi una volta aggiunto chiaramente nel nostro intestino si verifica quella che è la proliferazione dei ceppi batterici e quindi espleta la sua funzione. Come dicevamo prima, sono molto utili nel trattamento di tante patologie. Abbiamo detto nel trattamento della candida, per esempio, che è un problema abbastanza insidioso perché tende a rimanere. Diciamo che la candida tutti l'abbiamo nell'intestino, sia chiaro, come anche altri batteri. Si attiva e diventa dannosa quando c'è un squilibrio, quando non stiamo bene in pratica. È molto resistente ed è molto difficile, spesso da debellare, però se si prendono i fermenti e i probiotici giusti, chiaramente diciamo che si torna in equilibrio. Quindi i batteri patogeni con i batteri benefici tornano in equilibrio. La candida si attiva quando i batteri patogeni superano quelli benefici. Ecco, poi ci sono dei test anche per vedere la disbiosi intestinale che si ha e uno di questi è il disbiosi test. È un test che si può fare in farmacia e che viene fatto sulle urine. A seconda di quello che prevale può essere che ci sia una disbiosi putrefattiva. In questo caso prevale una dieta eccessivamente ricca di proteine e quindi povera di fibre e ci sono determinati batteri. Nell'altro caso siamo in presenza di una disbiosi fermentativa e in questo caso il problema si presenta maggiormente sull'intestino tenue. In questo secondo caso alcune volte prendere i probiotici può risultare addirittura dannoso perché non ci aiuta, mentre è molto utile prendere i probiotici per esempio quando si tratta di una disbiosi putrefattiva. Quindi poi abbiamo detto i prebiotici, ho detto comunque che ne parla più avanti Carlo. Ecco, una distinzione fondamentale da dire è che spesso si parla di fermenti lattici. Quindi si prendono, si dice vado in farmacia a prendere i fermenti lattici. In realtà è un po' incompleta come affermazione perché i fermenti lattici comprendono tutti quei batteri in grado di fermentare il latte quindi con conseguenze produzione di acido lattico. Molti fermenti lattici non sono considerati probiotici perché muoiono nello stomaco quindi non sono proprio in grado di arrivare nell'intestino e quindi non fanno la loro funzione. Quindi quando avete necessità di assumere probiotici non accontentatevi solo di fermenti lattici ma assumete proprio dei probiotici perché probiotici è il termine più completo per definire questi batteri buoni che vanno a far bene al nostro intestino. Una cosa importante da dire è che alcune volte succede che le persone hanno dolore nella regione lombare e questo è un riflesso di un malessere intestinale perché si verifica una somatizzazione cioè si ha un riflesso viscerosomatico quindi noi abbiamo male alla parte lombare quindi alla parte bassa della schiena in realtà il problema non è a livello di spina dorsale o di schiena ma è un problema proprio di batteri intestinali quindi è un problema di intestino e quindi bisogna andare a indagare più che magari uno lo attribuisce a uno strappo che ha preso o a un problema che ha avuto bisogna invece andare a comunque cercare di collegare che può essere un problema intestinale. Allora anche se sono molto c'è ancora molto da studiare sui probiotici diciamo che sono tuttora in corso degli studi approfonditi sul microbiota intestinale proprio da quando si è visto quindi da un 3, 4, 5 anni a questa parte che tutte le malattie derivano da lì quindi ci sono studi molto completi ancora in corso sul microbiota intestinale però c'è già una lista diciamo un elenco per scegliere i migliori integratori probiotici in base ai disturbi che si hanno come abbiamo detto all'inizio quindi i vari probiotici fondamentalmente alcuni ceppi sono più indicati per rafforzare il sistema immunitario oppure per l'equilibrio psicologico perché è molto importante assumere probiotici anche quando si hanno problemi di depressione e di ansia quindi tante volte si attribuisce a una situazione di stress il fatto che la persona sia ansiosa o sia preoccupata o sia leggermente depressa e spesse volte la causa è nell'intestino anche lì andando a riequilibrare con gli appositi probiotici la persona torna a sentirsi meglio a essere meno ansiosa a affrontare le situazioni di stress con più tranquillità e a non avere dei picchi di umore magari di depressione e di tristezza particolari come dicevamo alcuni sono più indicati per rafforzare il sistema immunitario altri per l'equilibrio psicologico altri ancora per migliorare la digestione perché sono in grado anche di migliorare la digestione in generale tutti agiscono positivamente sul microbiota ma dipende un po' dalla situazione personale hanno un ruolo fondamentale come abbiamo già detto nella difesa da virus e batteri nella assimilazione di vitamine nelle infiammazioni nella cura delle intolleranze alimentari e sul nostro umore e infatti molte intolleranze alimentari alcune volte anche allergie derivano proprio da un intestino non a posto quindi avere insufficienti probiotici all'interno della flora batterica significa non essere in salute ottimale e quindi essere predisposti a malattie quindi ecco perché è molto importante prendere i probiotici allora i probiotici si distinguono fondamentalmente Alessandro se vuoi mettere in due tipi in due diciamo ceppi ci sono i lattobacilli per esempio che vivono nel nostro sistema digestivo urinario quindi vivono nel sistema digestivo nel nostro sistema urinario e nei genitali e si possono trovare in alcuni cibi come fermentati come lo yogurt e il kefir per esempio e poi c'è la famiglia dei bifidobatteri che vivono normalmente già nel nostro intestino specialmente nel colon e vengono nutriti da cibi prebiotici come l'inulina che è contenuta negli asparagi nel copinambur che poi vedremo questa specie di carciofo e nei porri e nei carciofi anche quindi le due grandi famiglie di probiotici sono i lattobacilli che appunto sono nel sistema digestivo urinario nei genitali e i bifidobatteri che invece vivono normalmente nell'intestino vediamo brevemente quali sono le proprietà dei lattobacilli allora abbiamo diversi tipi di lattobacilli infatti se voi leggete per esempio una scatola di probiotici che avete preso vedrete come ci sono diversi tipi di lattobacilli e diversi tipi di bifidobatteri io adesso vi faccio una carrellata qui vi ho messo una sintesi perché altrimenti sono diverse le cose e tanti sono funzionali per diversi diciamo per diversi disturbi quindi e anche il nome non è facile da ricordare comunque qui li leggete in sintesi io ve li elenco il lattobacillus acidophilus è il miglior probiotico per problemi di acne salute vaginale diarrea e stitichezza quindi per esempio una donna quando soffre di candida può ricorrere a questo tipo di lattobacillo acidophilus perché va riequilibrare l'equilibrio acido-base in particolare della vagina è un lattobacillo adatto per il trattamento anche della stitichezza e della diarrea perché diciamo che vanno bene per diverse funzioni poi c'è una funzione elettiva per ciascuno quindi dimostra sono in grado anche di ridurre questo tipo di lattobacillo l'intolleranza al lattosio e anche il rischio di contrarre il cancro al colon quindi pensate l'importanza che hanno quindi anche qui si è visto poi che questo lattobacillo ha un effetto incredibile e riduce di circa l'ottanta per cento dell'acne di cui possono soffrire diverse persone specialmente quando si tratta di acne infiammatoria poi abbiamo il lattobacillus rhamnosus che è il miglior probiotico per chi soffre di eczema è dimostrato che è molto utile anche in questo caso nel trattamento della diarrea quindi come l'altro che abbiamo detto prima è utile anche nell'eczema i bambini di donne che hanno assunto questo probiotico durante il parto avevano la metà delle probabilità di sviluppare eczema atopico all'età di 4 anni rispetto ad altri bambini poi abbiamo il lattobacillus plantarum che è il miglior probiotico da assumere in caso di infiammazione generalizzata dell'intestino e per l'umore anche come dicevamo prima questo lattobacillo aiuta a regolare la risposta infiammatoria nell'intestino è molto importante per contenere o per ridurre patologie come intolleranze e allergie quindi ecco quello che dicevamo che alcune volte le intolleranze si riducono notevolmente assumendo semplicemente dei probiotici che rimettono in equilibrio la flora intestinale e è in grado anche di ridurre va benissimo anche quando si soffre di dolore addominale e di gonfiore e si ha questa sindrome dell'intestino irritabile è importante anche per i suoi effetti psicologici quindi è in grado anche di aumentare la dopamina e la serotonina e quindi di ridurre eventuali stati di depressione poi c'è il lactobacillus casei che è molto utile per il supporto gastrointestinale in generale e la funzione celebrale anche qui in questo caso è importante per alleviare l'ansia quindi quando una persona tende ad essere ansioso può iniziare, può provare diciamo come prima cosa ad assumere anche questo lactobacillo, il casei e poi abbiamo il lactobacillus helveticus che è il miglior probiotico per depressione anche in questo caso ansia come quello che abbiamo detto prima e difficoltà di apprendimento quindi anche quando si hanno problemi di memoria addirittura come ho messo qua nell'elenco qui ho sbagliato a scrivere è lactobacillus helveticus ma ho messo una 11 della I comunque è addirittura hanno visto in uno studio che ha funzionato meglio del citalopram per ridurre l'ansia indotta da stress, depressione e disfunzioni cognitive quindi capite bene prima di prendere magari farmaci che hanno anche degli effetti collaterali pesanti proviamo a ricorrere ai probiotici poi abbiamo le proprietà dei bifidobatteri che è la seconda pagina ecco anche in questo caso ci sono diversi bifidobatteri addirittura sono in grado di influenzare la creazione di cellule tumorali producono enzimi cioè di ridurre diciamo l'incidenza del tumore i cepi di bifidobatteri proteggono dalla crescita e dalla trasformazione delle cellule sane in cellule cancerose abbiamo il bifidobacterium lactis che è il miglior probiotico per l'immunità quindi questo probiotico aiuta a migliorare la funzione immunitaria quindi quando voi volete semplicemente aumentare un po' le vostre difese immunitarie come può essere in questo periodo oltre alla vitamina C e alla vitamina D di cui abbiamo parlato nei precedenti incontri potete anche prendere un probiotico tipo questo il bifidobatteri ovviamente non lo trovate singolo lo trovate sempre normalmente abbinato ad altri però ecco serve per aumentare la funzione immunitaria poi abbiamo il bifidobacterium longum che è il miglior probiotico per ostipazione e funzione cerebrale il bifidobacterium longum è uno dei primi tipi di batteri a colonizzare i nostri corpi alla nascita l'anno scorso durante un incontro che avevamo fatto riguardo alla prevenzione riguardo al covid si era visto che questo tipo di bifidobatterio che era presente molto nei neonati faceva sì che non si ammalassero di questo tipo di infezione e infatti è uno dei bifidobatteri che stanno studiando particolarmente perché sembra inibire l'infezione virale l'infezione virale in generale in particolar modo quella da covid-19 però gli studi sono ancora in atto diciamo così stanno approfondendo poi anche qui è importante per il bifidobacterium longum per l'asse intestino cervello quindi anche lavora anche sulla funzione cerebrale e sulla parte diciamo dell'umore quindi ha ridotto i livelli di stress sempre questo tipo di bifidobatterio e ha portato anche un miglioramento della memoria perché ha difficoltà a ricordare poi c'è il bifidobacterium bifidum quello che è uno dei più conosciuti che c'era anche anni fa una pubblicità in televisione che parlava del bifidum che è il miglior probiotico per la vitamina B la vitamina K e le intolleranze anche questo per le intolleranze alimentari le infezioni in generale è importante per la sintesi delle vitamine del complesso B per la vitamina K, questo bifidum per la salute cardiovascolare la produzione di energia è utile anche lui per prevenire le intolleranze alimentari favorisce la digestione e indibisce la produzione di stamina quindi questo per ovviamente chi soffre di intolleranze è molto importante riduce le infezioni previene la proliferazione nell'intestino degli agenti patogeni quindi anche qui viene utilizzato per ridurre la sindrome dell'intestino irritabile migliora la qualità della vita per coloro che soffrono di colite ulcerosa che è una malattia appunto cronica infiammatoria intestinale abbastanza fastidiosa poi abbiamo il bifidobacterium breve che è molto importante per i problemi soprattutto digestivi quindi chi magari ha problemi a digerire in questo caso per l'invecchiamento anche per lo stress addirittura per questo bifidobacterium breve si è visto che riduce per le persone che si espongono frequentemente ai raggi UV mitiga gli effetti nocivi dell'esposizione al sole mantenendo la pelle giovane ed elastica e maggiormente idratata quindi oltre ad essere importante per la costituzione per i problemi digestivi e per lo stress è molto utile anche per mantenere la pelle diciamo più giovane e idratata poi abbiamo il bifidobacterium infantis ed è l'ultimo e come vi ho messo è il miglior probiotico chiamato così perché anche questo è uno dei ceppi che si trasferisce dal latte materno all'intestino del neonato e insieme al bifidobacterium bifidum è il ceppo probiotico più essenziale per la salute gastrointestinale dei bambini fino a sei anni di età e per la formazione della loro flora batterica quindi aiuta a trattare la diarrea infantile e a prevenire la formazione dei calcoli renali in questo caso può essere utile a coloro che soffrono anche in questo caso di intestino di sindrome dell'intestino irritabile e per chi soffre ho visto prima una domanda sul gonfiore chi soffre di gonfiore gas diarrea costipazione disturbi addominali ce ne sono diversi che possono essere utilizzati per il gonfiore ne ho detti più di uno chiaramente quando voi comprate dei probiotici ci sono delle diciamo riconoscegli gli integratori di probiotici ci sono delle caratteristiche che dovrebbero farvi scegliere nel modo migliore io adesso me ne do alcune e sono per esempio molti integratori di probiotici non arrivano nell'intestino come abbiamo detto perché i batteri vengono distrutti dagli acidi dello stomaco e questo chiaramente rende vana la loro attività quindi l'ideale l'ideale per i probiotici è che non abbiano bisogno di essere refrigerati perché chiaramente se voi li dovete refrigerare in farmacia non sono quasi nessuno li ha tenuti al fresco chiaramente sono negli scaffali e quindi questo non è un bel segno anche se poi voi li refrigerate però chissà magari da quanto sono in giro ed è importante che il produttore garantisca la sopravvivenza dei probiotici nell'intestino bisogna osservare sempre la data di scadenza chiaramente che ovvio rappresenta la promessa del produttore che i batteri presenti rimarranno attivi e potenti fino alla loro assimilazione di solito la data di scadenza si basa su dei test precisi e questo significa che un'azienda presta attenzione a questi aspetti poi la confezione deve essere al riparo da troppa luce calore umidità quindi è importante che le bottiglie le bottiglie spesse opache con sacchetti disidratanti sono l'ideale però vanno bene anche i blister che funzionano bene perché chiaramente non entra la luce e sono un po' protetti dall'umidità poi alcuni integratori contengono troppo pochi batteri per capsula e quindi non hanno un effetto così importante per il nostro organismo l'ideale che contengano almeno cinque ceppi batterici e dieci miliardi di carica microbica per porzione poi l'ideale che i probiotici contengano anche all'interno dei prebiotici che favoriscono come abbiamo detto prima l'attecchimento dei nuovi ceppi perché il probiotico aiuta cioè il prebiotico scusate che è l'alimento aiuta i probiotici ad attecchire meglio nell'intestino in assenza quando non ci sono dei prebiotici è importante assumerli durante i pasti magari prendendosi la cura di includere cibi prebiotici come abbiamo detto prima tipo topinambur tipo aglio tipo porri tipo carciofi nel pasto e poi prendere i probiotici così da favorire l'effetto dell'integratore devono contenere ovviamente i ceppi probiotici che ti interessano per il miglioramento del nostro benessere quindi secondo alcuni ricercatori ma come vi ho già detto ci sono ancora studi in corso però devono contenere almeno cinque diversi ceppi per un'azione simbiotica efficace per questo motivo è molto importante scegliere accuratamente quale integratore assumere per avere dei benefici reali quindi come vedete non tutti i probiotici e non tutti i fermenti lattici non tutto va bene e non va bene e diciamo è anche un po' superficiale andare in farmacia e farsi dare i primi alcuni farmacisti magari vi chiedono per cosa sono e vi danno magari quello più indicato però se voi avete queste informazioni siete maggiormente preparati e quindi potete anche chiedere direttamente quel tipo di probiotico per il vostro problema del momento adesso lascio parlare Carlo perché vi parla un po' dei prebiotici quindi gli alimenti che aiutano l'azione dei probiotici vai pure Carlo grazie eccomi qua allora dopo la splendida diciamo esposizione di Melissa ti ha chiarito un po' bene gli aspetti più specifici del dei probiotici chiarendo chiaramente anche la questione della differenza tra i probiotici e prebiotici perché i probiotici i prebiotici servono come sostentamento dei probiotici in pratica sono il loro alimento per sostenerli i prebiotici invece sono delle sostanze alimentari non digeribili quindi sono fibre idrosolubili e carboidrati che non vengono digeriti il compito appunto è promuovere la crescita dei batteri probiotici presenti nell'ambiente intestinale nutriendoli e i prebiotici si trovano sicuramente anche in molti integratori che servono appunto per la regolamentazione dell'intestino ma anche comunque e questa è la cosa più importante in molti cibi i prebiotici svolgono infatti un ruolo di sostegno appunto del metabolismo e serve per mantenere servono per mantenere anche un sistema immunitario molto efficiente addirittura le persone diabetiche sottoposte appunto e quelle che sottoposto a un regime alimentare dimagrante possono avere dei vantaggi notevoli dai cibi prebiotici perché mantengono bassi livelli di zucchero nel sangue quindi rallentano in maniera importante l'assorbimento degli zuccheri che poi regono a loro volta il senso dell'appetito ci sono delle controindicazioni però sui prebiotici perché sono sconsigliati a chi ha intolleranze al lattosio per esempio e a chi soffre della sindrome del dell'intestino del colon irritabile che in quel caso lì può peggiorare il disturbo e anche altre patologie specifiche un po' dell'intestino quando non è messo molto bene cibi prebiotici sono per esempio le banane sono molto ricche di fibre prebiotiche ricche anche di grassi proteine magnesio potassio e minerali come il ferro per esempio presente anche la vitamina E la vitamina C è quella del gruppo B altro cibo interessante ma è la frutta secca per esempio che anche è ricca di amminoacidi quindi anche di omega 3 e ha un contenuto di minerali abbastanza elevato ed è una fonte comunque di energia interessante prebiotici ci possiamo trovare nella farina di frumento integrale chiaramente non è indicato a chi è celiaco o ha la sensibilità al glutine anche l'aglio è sicuramente importante diciamo da questo punto di vista anche per l'attività antibiotica e di regolazione anche della pressione arteriosa oltretutto l'aglio esplita funzioni fungicide battericide antibiotiche infatti l'aglio è curativo chiaramente ha degli effetti collaterali che sono quelli di un alito molto pesante logicamente ma a parte questo è un toccasana anche il germe di grano è interessante anche diciamo a questo punto di vista contiene infatti anche molte vitamine del gruppo B e fibre insolubili che sono quelle proprio caratteristiche del cibo prebiotico altro cibo sono i legumi per esempio che sono ricchissime di fibre prebiotiche però chiaramente non bisogna eccedere con il loro consumo se l'intestino non è in equilibrio perché in quel caso lì posso provocare dei gonfiori e dei disagi diciamo nella digestione contengono infatti anche aminoacidi fibre minerali e vitamine gli asparagi anche questi sono importanti diciamo come cibo prebiotico puliscono l'intestino infatti depurano i reni e il fegato e quindi hanno un'azione drenante diuretica antinfiammatoria quindi la differenza netta diciamo tra probiotici sono dei batteri vivi prebiotici sono dei cibi delle che hanno delle fibre delle fibre questo è un aspetto molto molto importante questo per i prebiotici quindi logicamente il cibo è molto importante per quanto riguarda il benessere dell'intestino sia come prebiotici ma anche come probiotici come probiotici importanti sono le verdure fermentate le verdure fermentate erano molto importanti in precedenza quando non c'erano sistemi sistemi di refrigerazione di conservazione degli alimenti e quindi l'unico sistema era quello della fermentazione fermentazione vuol dire dare la possibilità al cibo di non di non deteriorarsi e quindi poteva durare il cibo anche un mese due mesi e sono dei sistemi anche abbastanza semplici da attuare diciamo per fermentare i cibi qui c'è uno schema dei cibi brevemente poi ne parleremo di questi infatti una sola porzione di verdura fermentate pari a un intero flacone di probiotico ad alta potenza le verdure fermentate contengono 10 miliardi di unità formanti una colonia di batteri quindi la capacità diciamo dei probiotici altissima delle verdure fermentate oltretutto i cibi fermentati sono dei potenti antiossidanti questo cosa vuol dire uno dei problemi più grossi dell'essere umano è lo stress ossidativo che prepara un terreno diciamo a tantissime malattie perché è come se fosse lo stress ossidativo accelera l'invecchiamento accelera comunque una serie di patologie perché che è determinato tantissimo dei rechi liberi per esempio lo stress ossidativo è determinato sia dall'alimentazione ma è determinato anche dallo stress in generale dal tipo di vita che si fa oggi perché una cosa è vivere in una situazione tranquilla serena e altra cosa vivere una vita troppo di corsa troppo di stress poi quello che va a incidere è la tranquillità e la sicurezza sociale che oggi in una situazione così instabile incerta del futuro logicamente siamo portati maggiormente a uno stress ossidativo per questo è sempre più importante cercare di ridurre queste influenze questo peso negativo diciamo anche dell'ambiente cercando comunque di tenerci per tutto quello che possiamo anche come alimentazione su uno stato di è un livello di benessere buono sicuramente in questa direzione in questo campo possiamo fare tantissimo tornando al discorso delle verdure fermentate che si possono comunque autoprodurre in casa in casa propria sicuramente e non è non è difficile comunque poi magari lo spiego brevemente in un paio di settimane si fa fermentare il cibo che molte volte comunque di base c'è il cavolo il cavolo e il cibo per elezione poi si mettono dentro anche degli altri delle altre verdure ma il cavolo è quello di base quello principale tra i cibi fermentati importanti sono i crauti per esempio che infatti parte dal cavolo ed è anche un'ottima fonte di vitamina C vitamina A e vitamina K sono una porzione una porzione di crauti fornisce l'ottantacinque novanta per cento del fabbisogno giornaliero e quindi è un cibo molto molto importante è un cibo ottimo come probiotico perché ha tanti batteri buoni diciamo poi sono anche i cetriolini per esempio che spesso si trovano nei supermercati e i sottaceti sottaceto ma molto spesso non sono un alimento fermentato probiotico perché in genere vengono poi alla fine pastorizzati e quindi vanno a perdere e a distruggere i batteri probiotici benefici quindi anche questo si può realizzare sicuramente in casa facendo diciamo la procedura corretta e questo qui i cetriolini contengono vitamina K vitamina C vitamina B5 e anche l'acido pantotemico oltre a diversi minerali importanti altro cibo fermentato è lo yogurt per esempio però anche qui la maggior parte di yogurt sono pastorizzati contengono zuccheri aggiunti come il fruttosio lo scioppo di mais coloranti dolcificanti purtroppo dolcificanti artificiali chiaramente purtroppo ci troviamo di fronte a un mercato quello alimentare molto avanzato diciamo a livello di concorrenza e questo cosa porta a dare molto molto importanza al packaging per esempio quindi a come viene presentato quel cibo quel cibo deve essere molto gustoso e quindi mettono dentro un po' di tutto per esaltare i gusti e oggi ci troviamo per certi aspetti probabilmente ad avere una deformazione a livello a livello di gusti perché il mercato ci ha abituato a gusti esasperati molto molto forti e non naturali per quanto riguarda il discorso dello yogurt è meglio scegliere comunque quello fermentato a base di yogurt con latte crudo che contiene comunque fermenti vivi e senza zucchero comunque anche qui la cosa buona sarebbe autoprodurselo in casa con del latte crudo altro cibo fermentato il kefir per esempio che è uno yogurt liquido una bevanda appunto ricca di fermenti lattici e probiotici ottenuto dalla fermentazione del latte di mucca capro pecora ma anche si può utilizzare come base anche l'acqua io l'ho fatto per diversi mesi con una base di acqua il kefir contiene ceppi batterici probiotici che non si trovano per esempio nello yogurt perché quelli allo yogurt nutrono il sistema digestivo e alimentano i batteri buoni i probiotici del kefir possono aiutare a colonizzare il tratto intestinale quindi hanno due scopi anche un pochino diversi poi abbiamo anche il natto per esempio che è soia fermentata anche questo è una fonte eccezionale di probiotici e vitamina K2 ricordo l'importanza della K2 ne abbiamo parlato alcune settimane fa la K2 è importante per rimuovere i depositi del calcio accumulato dalla vitamina D che va in posti sbagliati nei tessuti molli all'interno dei vasi quindi sulle persone anziane aiuta a determinare comunque a cella accentua maggiormente problemi di arteriosclerosi quindi è molto importante assumere vitamina K2 qui la si assume attraverso un cibo un cibo fermentato però chiaramente bisogna essere sicuri di acquistare del natto biologico ed evitare comunque la soia OGM la soia è importante però bisogna evitare assolutamente quella OGM poi abbiamo anche la zuppa di miso che è una pasta a base di soia fermentata riso e orzo che viene miscelata con acqua calda e si crea così la zuppa di miso poi abbiamo anche il tempeh che è una torta di soia fermentata che sta con sapore di nocciola e funghi anche questa a un livello di vitamine B12 molto elevato anche questo qui logicamente evitare la soia OGM quindi comunque assumere probiotici e anche probiotici è importante è importantissimo perché la salute poi passa come diceva Melissa dall'intestino ormai ormai non solo i concetti che sono trasferiti da Ippocrate in avanti ma anche in precedenza sull'importanza dell'intestino ma anche medicina tradizionale cinese parlava nel secondo cervello nell'intestino quindi poi il collegamento intestino cervello ormai sono molti studi anche abbastanza avanzati di quest'asse diretto diciamo di connessione tra intestino e cervello infatti in parte la salute mentale è determinata anche dalla 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 salute dell'intestino in merito i probiotici come diceva Melissa non devono essere utilizzati in maniera indiscriminata perché ogni singola area dell'intestino presenta un pH differente quindi anche da questo punto di vista necessita di un ceppo di probiotici specifico per quel tipo di area perché sennò si rischia di peggiorare la situazione più generale provocare anche dei gonfiori addominali incrementando magari con la situazione di disagio e la disbiosi intestinale che spesso ci troviamo di fronte poi comunque la somministrazione di probiotici può essere utile ed efficace anche nel trattamento della candida comunque poi le influenze positive possono essere in tantissime patologie in tantissime problematiche perché poi effettivamente il benessere passa dall'intestino non c'è niente da fare e oggi dicevo non solo attraverso un'alimentazione che anche se si vuole tenere su un buon livello anche il biologico non possiamo dire che sia il biologico di quello che poteva essere una volta il naturale ormai viviamo in un mondo che per certi aspetti l'aria l'acqua il terreno come dicevamo di sé prima ormai è cambiato non è quello di 50 anni fa perché poi è stato negli anni 60 mi sembra che è entrata nell'agricoltura la chimica e da lì è stato un continuo scivolare sempre verso il basso in questi ultimi 30 anni gli alimenti hanno perso quasi un 50% delle proprietà quindi possiamo capire che bisogna mangiare il doppio per assumere le stesse quantità a livello di proprietà il che vuol dire il doppio anche come consumo energetico per la digestione perché anche la digestione ha un suo consumo quindi se introduciamo 100 se 50 se ne va per la digestione logicamente ce ne arriva solo la metà quindi questo può creare anche situazioni di diciamo di debolezza un po' generale quindi è importante alimentarsi bene in maniera molto appropriata per quello che sono le proprie condizioni chiaramente fisiche di costituzione per come ci si trova in quel determinato momento in quella determinata stagione perché logicamente è una cosa alimentazione d'estate è un'altra cosa alimentazione d'inverno per esempio questo un po' in termini generali se vuoi dire qualcosa tu Melissa sì allora stavo rispondendo un po' di domande siccome alcuni chiedono cosa è meglio prendere i lattobacilli o i bifidobatteri allora io adesso ho qui una confezione di come esempio di probiotici qui ci sono 450 miliardi di batteri lattici e bifidobatteri vivi per bustina se voi guardate gli ingredienti ma ce ne sono anche altri che sono così miscela di 450 miliardi di batteri lattici e bifidobatteri vivi e poi mette più o meno tutti quelli che io ho citato tra bifidobatteri e lattobacilli quindi streptococcus termofilus bifidobatterium longum che ho citato prima bifidobatterium breve che ho detto prima bifidobatterio infantis quello ottimo per il gonfiore tra le altre cose lactobacillus acidophilus quello che consigliavo prima per candida soprattutto lattobacillo plantarum lattobacillus casei che ho citato prima ecco e qui lattobacillus bulgaricus quindi vedete come un probiotico completo generalmente include sia i bifidobatteri che i lattobacilli ed ha un quantitativo di tutto cioè questo proprio va ad agire soprattutto a livello intestinale ma anche a livello digestivo perché abbiamo visto che i lattobacilli vanno ad agire stanno soprattutto nel tratto digestivo quindi è un alimento un probiotico completo anche se ha il difetto questo che sto vedendo io che deve essere refrigerato e quindi non ve lo posso consigliare perché c'è scritto di conservarlo in frigorifero e quindi prima tra le informazioni una delle cose è che è un difetto se deve essere conservato in frigorifero però per tutto il resto è a tutta questa miscela di tantissimi bifidobatteri e lattobacilli che è l'ottimale perché è il più completo in assoluto ecco poi se avete altre domande più specifiche da fare tipo chi chiedeva per le verdure fermentate come si fanno ci sono non è difficile ci sono tante indicazioni su internet che potete trovare facilmente ma comunque scusa ma comunque metteremo tra domani e dopo domani sul nostro canale telegram sia gli schemi che hai fatto vedere sui bifidobatteri ma sia anche il sistema di preparazione diciamo del 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 il caso sia anche il sistema di preparazione diciamo dei delle dei cibi fermentati perché infatti perché infatti è un sistema abbastanza semplice comunque lo specifichiamo bene nel canale telegram ma tutti possono farlo in maniera molto pratica e molto semplice nel gioco di pochi qualche decina di minuti in cucina e la fermentazione dura due settimane comunque dopo due settimane si può consumare o comunque conservare ancora per un paio di mesi senza senza fare null'altro questo più o meno a grandi linee deve stare in mezz'ora ma non ce la facciamo mai perché poi le informazioni da dare sono sempre tante bisogna cercare in poco tempo di toccare più punti possibili poi chiaramente ovviamente rimangono delle domande perché non riusciamo a rispondere a tutto avendo il tempo limitato e ripeto se avete necessità ci potete contattare in separate sede o su info chiocciolondavitale.it o sul numero di onda vitale che io non mi ricordo mai che dice Carlo adesso 351 351 582 8819 ecco quello questo è il numero della nostra associazione per qualunque richiesta qualunque informazione a chiederlo si può chiedere in maniera molto rapida e veloce su con whatsapp su questo su questo numero qui o o anche via mail per chi preferisce info chiocciolondavitale.it questo questo è quanto comunque metteremo qualcosa tra domani e dopo domani di informazione proprio sui sui fermenti quindi ricordatevi di d'ora in poi di porre attenzione al tipo al tipo di probiotici che prendete perché è molto molto importante il prossimo martedì sare sarà la volta delle alghe tratteremo le alghe quindi come vedete insomma l'impressione tratteremo i benefici delle alghe marine per la nostra salute anche l'argomento delle alghe è molto molto importante chiaramente in mezz'ora dobbiamo concentrare al massimo però eh sono degli alimenti molto benefici come qualcuno di voi già saprà e meritano di essere trattati anche solo in maniera abbastanza rapida eh quindi vi aspettiamo il prossimo martedì che sarà il quattordici di dicembre per eh parlare delle alghe marine poi faremo la la pausa natalizia diciamo sì ma prima avere avremmo il giorno prima abbiamo ospite la dottoressa Annalida Giannetti può un siero sperimentale sostituirsi alle leggi della natura perché oggi sembra che con un siero magico si metta a posto tutto ma come naturopati sappiamo che il benessere passa attraverso il rispetto di determinate regole e leggi della natura conoscenza approfondita e leggi della natura e adeguarsi ad ad essa in pratica e quindi quello di cui parliamo sempre stili di vita alimentazione ma anche lavorare su se stessi sicuramente lavorare per il proprio benessere interiore quindi bisogna mettere assieme questi aspetti qui se si vuole effettivamente fare qualcosa del proprio benessere pensare di farsi una punturina e risolvere il problema non si alla fine è un percorso che non porta sicuramente a niente di positivo per l'essere umano questo lunedì prossimo poi volevo ricordare che noi a santa lucia la sera di santa lucia il 13 dicembre e poi volevo ricordare che la nostra associazione è completamente autofinanziata e stiamo facendo una raccolta fondi che sarà fino fino a queste prossime feste appunto per eh tirare su della linfa vitale per eh il programma dell'anno prossimo noi comunque siamo sempre in pista siamo otto anni che eh che esiste onda vitale abbiamo fatto centinaia di iniziative le si possono verificare vedere comunque per conoscerci nel nostro sito www.ondavitale.it siamo sempre in attività non solo per non solo all'interno di quello che si sta accadendo a livello sociale ma anche per sostenere le persone e questo sembra una cosa molto importante sostenere le persone per superare questa queste situazioni e quindi lavorare su se stessi con tutta una serie di di cose di iniziative anche in presenza anche in presenza eh infatti ne abbiamo una il ventuno presso stizio una il ventuno che comunicheremo poi nei prossimi giorni e quella in presenza come ne abbiamo fatta una anche eh poi dieci giorni fa in pratica questo è quanto quindi sosteneteci e che dire i trenta minuti per il benessere sono diventati sessanta vabbè devo andare così allora grazie a tutti per la partecipazione ci aggiorniamo quindi a lunedì prossimo con la dottoressa Narita Iannetti e martedì con le alghe va bene grazie a tutti buonanotte e a presto ciao 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 ciao